Più o meno all'invito glielo fai, cioè se ad esempio la vedevi alle 5, glielo facevi verso le 9, 10. Sì, dipende, non c'è la tempistica esatta, non è la scienza esatta, ogni ragazza è diverso. Ci sono alcune ragazze che ci ho messo tre ore, altre sei, altre quattro e mezzo. E ad esempio se lei ti avesse fatto un'obiezione del tipo, ma no, prendiamoci qualcosa da mangiare qua? Sì, sì, me l'hanno fatta, no, semplicemente dici ok, accogli l'obiezione, semplicemente vuol dire che ci vuole più fiducia, a fatto che l'attrazione l'hai creata, se l'attrazione l'hai creata probabilmente hai già fatto il bacio, avete già parlato di robe spinte, attenzione anche qua, non è che se non hai fatto il bacio non c'è attrazione, perché quello che dicevo prima Rodolfo, ci sono alcune ragazze che anche se c'è attrazione non si fanno baciare. No, io lei l'avevo baciata, mi diceva anche sculacciami il russo, cioè cose del genere, però niente. E mi sa che è stata la parte di attrazione allora. Ah sì? Eh beh, sì, nel senso se non bilanci bene la parte di fiducia e uno ti dice arrivederci sculacciami, questa cosa qua, di solito non è il massimo. Eh però ci sono stato otto ore assieme, ah beh. Sì, magari otto ore, però allora non hai fatto la fiducia in modo corretto, lei ha percepito che per lei... Volevo solo scopare. Esatto. Ah, ok. Secondo me quando sei andato sotto al suo albergo, lì dovevi cogliere un attimo l'attimo per salire su. Che facevo? Sfondavo la porta? No, no. Però, voglio dire, non ti dici sculacciami. Ti dici sculacciami, dai baciare. Stavi sotto alla luce. E' un personaggio. Cioè, voglio dire, ti inventavo qualcosa per dire, ma è casa tua, ma è carina, me la fai vedere. Non lo so. Come ultima spiaggia giocatevi sempre la carta che dovete andare in bagno, se proprio vedete che mi fa salire. A volte a me è successo, però non l'ho scopata. L'ho detto, guarda, vado un attimo, posso andare a usare un attimo il bagno e poi me ne vado. Però a volte funziona. Quindi come persa per persa, provo lo stesso. E una domanda, qualora tu gli facessi l'invito sul mangiare, loro ti fanno l'obiezione, no? Ti dicono, no, mangiamo qualcosa qui, no? Tu gli fai, va bene. Risemini per altro o poi dopo aspetti crei più fiducia, più attrazione. Poi rifai lo stesso in vita. Beh, no. Se avrebbe senso, semini per altro, ok. Sì, perché avete già mangiato, cioè, non ha senso. Basta che semini per bere qualcosa. Per cosa? Basta che semini, non so, per bere qualcosa. Oppure sai che è una partita di dolci, vi siete mangiati una pizza e dici stai chiedendo tutto, andiamo un attimo da te, mezz'oretta, ci ordiniamo un dolce con globo e poi me ne vado. Anche così. Dipende da cosa è seminato. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato? Tutto questo grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che già il giorno stesso ti potresti trovare in camera da letto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, partecipa a un corso al vivo con Alessandro, nuovo coach ufficiale di approccialla.it. Dal 2 al 9 settembre puoi iscriverti a metà prezzo. Per maggiori informazioni, clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS